...signor sindaco. Buona giornata, no cazzo. Signor sindaco, una domanda, signor sindaco. Le sembra normale che un grande salentino come Vittorio Bodini sia stato escluso da tutte le antologie italiane? Eh? Intendete ancora ignorare il problema? Il Salento vuole rispetto per Bodini. Guarda, c'è lo premio. La lei lo sa che nel 55 Bodini è stato vittima di una macchinazione politica. Senta, senta, scusi, guardi, senza. Guardi, infatti, signor sindaco, abbiamo un incontro con il segretario. La prego, non insiste, la prego. Mai che rispondete a una domanda, mai. Io sto a fare un lavoro mio, va bene? È colpa vostra se questa terra si è ridotta così. E' l'assime. Scordamene, l'eroe del Salento.